Prima fase del congresso del PD con l'assemblea nei circoli della provincia. Sì, allora domani sera e poi venerdì e sabato si inizieranno e si concorderanno i congressi dei circoli territoriali. Sono 16 circoli, svolgeremo 10 assemblee in tutto il territorio del comune. Come si svolgono queste assemblee? Intanto a queste assemblee potranno partecipare non solo gli iscritti ma anche i simpatizzanti. Ci sarà una fase di presentazione delle tre mozioni, quindi la mozione Orlando, la mozione Emiliano e la mozione Renzi. Poi ci sarà una fase dedicata al dibattito e poi la votazione alla quale potranno chiaramente partecipare solo gli iscritti. Ci sono dei risultati che già ci potete dare? Sì, allora per quanto riguarda il comunale appunto iniziamo domani sera ma a livello provinciale diciamo che sono stati fatti circa un terzo dei congressi dei circoli. L'affluenza è stata un pochino inferiore al 60%, diciamo quindi in linea con quella che è stata il precedente congresso e fino ad ora i risultati sono che la mozione Renzi è intorno al 72%, la mozione Orlando intorno al 27,50% e ultima la mozione Emiliano che ha raggiunto solamente due voti. È un cammino che poi porterà alle primarie? Sì, chiaramente questo è un cammino di preparazione e di ascolto dei cittadini e degli iscritti che poi porterà alle primarie del 30 aprile a cui potranno partecipare tutti i simpatizzanti dell'elettorato di centro-sinistra.